21.19 Garzaro si prepara dai 9 metri per Modena ricezione di Begic, deve correre Ancoc, palalta per Avelkova, tutto braccio, il muro smorza chiude la difesa Garzaro vincerato all'indietro per Baron Susner, la difesa di Begic, Ortolani la tiene viva poi Ancoc la manda di là free ball per Modena, vincerato appoggia per Herman, il muro smorza da terra, Arcangeli poi Ancoc non chiude poi va a palleggiare ancora per Avelkova, palla corta difesa da Garzaro, Montagna a tutto braccio, Murata ancora una possibilità per Modena, Herman il muro smorza chiude la difesa Begic, Ancoc la manda di là schiaffeggiandola in qualche maniera Modena si salva, stavolta la free ball per Monza, Ancoc per Avelkova dentro i tre metri, diagonale stretta, Ilena Avelkova servizio ricevuto da Cardullo, l'alzata per Struniac che va in fast, salva Carlini adesso Merlo alza per Oc, bella salvataggio di Melagurski, Adelisia palleggia il pallone alle sue spalle poi l'attacco di Betania respinto, quello di Oc no, ma difeso bene da Marcon può ancora andare all'attacco Malagurski, con le mani aperte Carlini, Bosetti salva in qualche modo Betania genera la free ball, attenzione ancora all'attacco di Struniac grazie, gran punto Fabriz sul nastro, verso Francesca Piccinini, qualche problema, però questa volta non riesce a chiudere Di poco vale con Eliano, che mai con questa fassa difende Fabriz, evoluce per Fabriz la croata, appoggia un pallone ma c'è, scorupa, Sansonna in baggera Paole Gono, attacca potente, ma c'è la difendere, l'attacco di Samantha Fabriz difende Salzone, un grande salvataggio, Plac e Parra, molto attenta, lucida, piazza un pallonetto che vale il tre paio